Gli angeli stanno dicendo che qualcuno ti darà una nuova casa. Messaggio di God. L'alba si avvicina alla tua famiglia, lasciandosi alle spalle giorni di preoccupazioni, delusioni e difficoltà finanziarie. Al suo posto ti aspetta un'ondata di felicità, prosperità e sorprese inaspettate. Se credi nella notizia incredibile e stimolante che questo diventerà realtà nella tua vita, metti mi piace a questo video. Una persona speciale sta per regalarti una nuova casa. Tuo padre vuole portarti in un posto meraviglioso e sereno, dove potrai trovare pace e armonia. Preparati a rimanere sorpreso perché molto presto ti daranno le chiavi di questo posto incredibile. Continua a guardare questo video per essere testimone dei miracoli che devono ancora arrivare. Dio ti sta comunicando qualcosa di speciale. Stai per entrare in un periodo di abbondanti benedizioni e di amore incondizionato? Tutto andrà a posto perfettamente al momento giusto, secondo la volontà divina. Ha affermato che sperimenterai piena salute, una mente positiva, successo abbondante, relazioni sane, connessioni significative, pace, crescita spirituale, mentale e finanziaria. Il progresso e la grazia di Dio saranno su di te. Supererai tutte le avversità emotive, soprattutto quando ti renderai conto che ogni ostacolo era una preparazione per il tuo ritorno trionfante. Tutte le cose collaborano per il tuo bene. Se hai fiducia in Dio, scrivi a Gesù. Se stai guardando questo video è perché stai per ricevere un regalo meraviglioso, una nuova opportunità per vivere la vita dei tuoi sogni e io sono qui per dirti di sfruttare questa opportunità a braccia aperte, non lasciartela sfuggire lontano. Credi in te stesso e combatti per ciò che desideri. Ricordo le parole ispiratrici di Gesù, che disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno raggiunge la pienezza senza seguirmi. Questo potente messaggio ci mostra che esiste un percorso unico e speciale per raggiungere la felicità e la realizzazione. Scrivi 1010, proprio ora per rivendicare questa opportunità unica che hai prima di ricordare che meriti di vivere la vita dei tuoi sogni. Credi in te stesso, segui il tuo cuore e continua nel cammino che ti condurrà a una vita piena e felice. Puoi farlo, preparati a ricevere novità entusiasmanti. Questa settimana qualcosa di sorprendente sta entrando nella tua vita, senti l'energia dell'universo cospirare a tuo favore. È come se un grande cambiamento fosse pronto a trasformare la tua realtà. Per favore, non ignorare questo video se credi nel potere di Dio. Ci sono quattro cose che Dio vuole che tu sappia oggi. Per prima cosa devi sapere che Dio ripristinerà tutto ciò che hai perso, ti rialzerai, supererai le difficoltà e stanno arrivando giorni più felici. Stanno arrivando delle benedizioni nella tua vita? In secondo luogo, quel lavoro che desideri così tanto si sta avvicinando alla risposta alle tue preghiere. Dio sta creando una via appositamente per te in questo momento. Terzo, Dio ti sta rafforzando in mezzo alle tue debolezze. Ha le risposte alle tue domande, portando pace alla tua confusione e guarendo il tuo dolore. Sorridi, perché nei prossimi due giorni ti arriverà un'enorme quantità di denaro. Dio ti dice, figlio mio caro, che sta per arrivare una grande sorpresa, poiché sei sempre stato leale, anche nelle piccole cose. Tutti i tuoi desideri e le tue preghiere stanno per realizzarsi, preparati a ricevere un dono straordinario dal cielo. Esprimi la tua gratitudine al Signore, perché Egli è buono e il suo amore per te è eterno. Gli angeli stanno dicendo che qualcuno ti darà una nuova casa. Messaggio di God.E l'alba si avvicina alla tua famiglia, lasciandosi alle spalle giorni di preoccupazioni, delusioni e difficoltà finanziarie. Al suo posto ti aspetta un'ondata di felicità, prosperità e sorprese inaspettate. Se credi nella notizia incredibile e stimolante che questo diventerà realtà nella tua vita, metti mi piace a questo video. Una persona speciale sta per regalarti una nuova casa. Tuo padre vuole portarti in un posto meraviglioso e sereno, dove potrai trovare pace e armonia. Preparati a rimanere sorpreso perché molto presto ti daranno le chiavi di questo posto incredibile. Continua a guardare questo video per essere testimone dei miracoli che devono ancora arrivare. Dio ti sta comunicando qualcosa di speciale. Stai per entrare in un periodo di abbondanti benedizioni e di amore incondizionato? Tutto andrà a posto perfettamente al momento giusto, secondo la volontà divina. Ha affermato che sperimenterai piena salute, una mente positiva, successo abbondante, relazioni sane, connessioni significative, pace, crescita spirituale, mentale e finanziaria. Il progresso e la grazia di Dio saranno su di te. Supererai tutte le avversità emotive, soprattutto quando ti renderai conto che ogni ostacolo era una preparazione per il tuo ritorno trionfante. Tutte le cose collaborano per il tuo bene. Se hai fiducia in Dio, scrivi a Gesù. Se stai guardando questo video è perché stai per ricevere un regalo meraviglioso, una nuova opportunità per vivere la vita dei tuoi sogni e io sono qui per dirti di sfruttare questa opportunità a braccia aperte, non lasciartela sfuggire lontano. Credi in te stesso e combatti per ciò che desideri. Ricordo le parole ispiratrici di Gesù, che disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno raggiunge la pienezza senza seguirmi. Questo potente messaggio ci mostra che esiste un percorso unico e speciale per raggiungere la felicità e la realizzazione. Scrivi 1010, proprio ora per rivendicare questa opportunità unica che hai prima di ricordare che meriti di vivere la vita dei tuoi sogni. Credi in te stesso, segui il tuo cuore e continua nel cammino che ti condurrà a una vita piena e felice. Puoi farlo, preparati a ricevere novità entusiasmanti. Questa settimana qualcosa di sorprendente sta entrando nella tua vita, senti l'energia dell'universo cospirare a tuo favore. È come se un grande cambiamento fosse pronto a trasformare la tua realtà. Per favore, non ignorare questo video se credi nel potere di Dio. Ci sono quattro cose che Dio vuole che tu sappia oggi. Per prima cosa devi sapere che Dio ripristinerà tutto ciò che hai perso, ti rialzerai, supererai le difficoltà e stanno arrivando giorni più felici. Stanno arrivando delle benedizioni nella tua vita? In secondo luogo, quel lavoro che desideri così tanto si sta avvicinando alla risposta alle tue preghiere. Dio sta creando una via appositamente per te in questo momento. Terzo, Dio ti sta rafforzando in mezzo alle tue debolezze. Ha le risposte alle tue domande, portando pace alla tua confusione e guarendo il tuo dolore. Sorridi, perché nei prossimi due giorni ti arriverà un'enorme quantità di denaro. Dio ti dice, figlio mio caro, che sta per arrivare una grande sorpresa, poiché sei sempre stato leale, anche nelle piccole cose. Tutti i tuoi desideri e le tue preghiere stanno per realizzarsi, preparati a ricevere un dono straordinario dal cielo. Esprimi la tua gratitudine al Signore, perché Egli è buono e il suo amore per te è eterno. Digita Amen per attivarlo. Benedizioni Dio ti dice, figlio mio caro, che sta per amore per te. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.